ah non ci credo ma è possibile dovunque andiamo mettiamo un euro siamo fortunati in amore, fortunati in un gioco che ci manca? ah è il lavoro, ma loro stavano diventando imprenditori ma loro stavano diventando imprenditori, ma loro stavano diventando imprenditori ma non c'ho parola, la Maria non è che ho capito questa ma dai, dici ci arriviamo? si, la faccio ti vediamo certo, ma sto spostando tutto qui oh, quanta esplosione che ne dici? 1300 euro, arriviamo? non c'ho parola io, non si tocca niente, ho fatto tutta la sola infatti mi vuole che tocco, 900, 900? ancora? basta però, c'è una certa bau, si, perché e poi rupeva, è esagerato ora, piccolò, capitano uncino questa è la slot dei Goonies dopo una volta quella di rupella? eh? che fanno sette? sette scarichiamo? sei, scisù? sei eh? ora devi morire più a luci ah, fra, parco tu te stava cercando ti stava cercando, lo giuro sto tornato a Roma eh, sto giù, sto giù eh, come no, come no dai, dai, dai allora ti chiamo, ma non sto giù un abbraccio, fra bello, fra, ciao, ciao stop, 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 stop carichi, grazie, grazie grande vincita, ma ricordo